saranno le altre piste con un bellissimo lento allora Pasquale che abbiamo qui qualcuno a parli di compagnia o simoni come si chiamano? Anna e Fabio e vogliamo qui con un applauso poi? Anna e Fabio Anna e Fabio dove siete? siete voi? chiamiamo altre coppie Francesco ed Alessandra qui con Federica ci vedete tutto questo tavolo dai ragazzi e anche quello dietro dai ragazzi non vi faccio vedere che amare così diventiamo i tempi che bello allora prima in porta a porta a terra la tua bellissima mogliettina vedremo qui le nostre coppie che è un po' più po' di niente e manca i castri non sei con il mio? non ti preoccupare è un po' semplice questo rosario eh? non c'è più sonno lui è volenturoso Grazie per la visione!